più in alto di così non si può salire mountain bike san rocco facciamo una tappa della e enduro ragazzi non è mica cazzi eppure io mi fido solo di te lo sai sei la mia guida per eccellenza sentiero nuovo per tutti per cui fatto blind si vuole da matti a a a Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti